Grazie Presidente. Colleghi, allora io non entro nel merito e sono assolutamente d'accordo con quello che il mio gruppo ha espresso relativamente alla questione Livorno. Voglio fare semplicemente una constatazione. Grandi ambizioni per Livorno, grandi progetti per Livorno, tanto lavoro per Livorno, tante belle cose per Livorno, ma da una parte mi sembra che la Giunta Rossi Livorno la mette un pochino alla fame. Cioè solo quando c'è questo grande progetto, grandi soldi, però cosa offriamo a Livorno? Cosa offre a Livorno? Lasciamo da parte il Sindaco, ma la Giunta dovrebbe rappresentare tutta la cittadinanza toscana, tutte le città, indipendentemente dal governo. Allora, l'erogazione di Livorno per Livorno sono 45 euro pro capite nel 2014 rispetto a Pisa che sono 90 euro, Lucca 120 euro. Allora, qui non è un aiuto per Livorno, secondo me, per le premesse con cui si presenta questo progetto. Grazie.